Signori miei, benvenuti e bentornati su Marvel Avengers, siamo qua con Kamala Dobbiamo trovare gli interruttori per accendere la corrente La corrente Attento È andata bene Ok, di qua Catalizzatore, bene Qua cosa c'è? Forse qua c'è qualcosa Batti il 5 Oh, oh Dai, dai Sì Dai Dai, dai Ah, questi sono quelli grossi Aia Dai, dai, dai Dai, dai, dai Dai Altro? Non vedo niente Non vedo niente Porca Buon lavoro Grazie, salve No Ah, ok Allora ci stiamo dentro Mi tocca usare questo Qua lo smantelliamo Questo Lo dobbiamo rismantellare A livello 2 Questo è livello 3 Lo mettiamo Anche se Non è niente di incredibile Devo dire Immagino che dovrò attivare altri interruttori per alimentare Posso entrare? No Probabilmente dobbiamo andare Di là Opla Qua? Smettila di perdere tempo Kamala Premiamo qualche interruttore Eh, non lo trovo Zia Premiamo qualche interruttore Questo è un interruttore Aspetta Eh, pensava di fottarmi Eh, questo qua Bande e unità Bande Sempre livello 3 Non ce ne facciamo niente Non è facile Non è facile capire dove devo andare Qua non posso andare Perdonami Però di solito Si dovrebbe essere aperta una porta Qua, no? In teoria, giusto? Ah Troppo facile Troppo facile Ho già capito Tu puoi sapere Tu puoi sapere Tu puoi sapere Tu puoi lanciare Opa Dai, dai Tu puoi Per l'amor di dio Beh, questi qua sono facilini Eh Batti il 5, zio Non ci vediamo Eh, devo andarmene di là, però Devo andarmene di là Ok Non so cosa ho fatto Non so cosa ho fatto, giuro Ok, ho fatto il livello 4 Ah Tu Sei simpatico Ma quanti sono? Scusami Oh Cioè Fatemi soffrire il naso Almeno Non me ne vogliate Ma io credo che là Di dover fare qualcosa No 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 Sì Ok Ho anche un punto abilità adesso Eh Dove lo scatto premix Questa la voglio Ci sono due cose Da fare Oh Posso andare qua adesso Cosa che non posso fare Meglio raggiungere l'interruttore Devo scoprire cosa c'è nell'archivio E qua c'è l'archivio, no? Eh, non credo di poter andare giù io Eh là Eh, non me lo ricordavo più Madonna, sono rimbambito Un gioco talmente facile da capire Non riesco a capirlo Incredibile Sarà stamattina che sono rimbambito Totalmente Aia Salve Dove è andato? Vai Vai Ok Vai così È aperta, è aperta Uff Forse si nasconde in questo mucchio di roba Avengers interessante No, concentrati Kamala Devo cercare qualche indizio Cos'è? Perché mostrare la pirite quando puoi permetterti l'oro Continua a cercare Ok Beh, questo era facilino, eh? Qua Dai Dietro Attenzione Equipaggiamento Equipaggiamento, signori Ci piace l'equipaggiamento Su Hulk abbiamo Un sacco di roba leggendaria Su di lei Una schifezza In mane Più 5 di volutazione in mischio Volutazione in difesa Migliora parecchio Devo dire Migliora parecchio La cosa mi piace molto Mai Qua è tutta roba di Tony Stark Qua è successo qualcosa, amico Ah, vedi 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 Che riusciamo a giocarcela bene Livello 4 Meno 1 di volutazione Cazzo, che schifo Allora me lo tolgo Non mi interessa Il quartier generale della West Coast Ok Mi sorprende che l'abbia tenuto Ma nessun segno di Jarvis Jarvis era l'aiutante elettronico di Dello zio Iron Eh, questo è bello Eh, questo è bello Uh, questo è bello Questa migliora, eh Eh, vedi Prossimo attenzimento Cosa fa? Nessun talento Poi ce lo mettiamo Perché può sempre dare una mano Scudi Non vedo però computer, eh Il primo scudo di Cap Era in mostra alle idee Non apri un passaggio segreto, vero? Valeva la pena di provarci Vai, tira L'equipaggiamento No Suonava la chitarra Lui Scusate, me lo sapevo Non mi ricordavo almeno Attenzione Siamo tornati all'inizio Eh, c'è qualcosa che mi sfugge Possibile che qua dietro non succede niente? Eh, vabbè, allora Cosa c'è qui? L'ho dovuto fare, signori Un pezzo di cartone Guarda di qua Siete in gran forma, ragazzi Eh, già Scusate, miei ragazzi Scusate di molto Ma Sa da fare Charvis C'è proprio scritto così Che succede? Devo solo trovare Ulke e andarmene Cos'è che sia? Abominio Che ne dici Di lasciarlo a me? Abominio Non credo proprio Quello di Ulke Che peccato Madonna Sono contro Abominio A tutte le unità Trovate la ragazza E non mettetevi in mezzo C'è qualcosa di sbagliato in te Sì, sì Qualcosa di diverso Forte, eh, lui Spostati Oddio Eh, fortino Spero che Distruggendo queste Vada bene lo stesso Non so Eh, forte lui Aia Aia Ok, ok, ok Una mezza mossa Eh, cilegna È molto più grosso Non ce n'è da fare Ok, lui Vi ricordate che è il Marines Vi ricordate che è il Marines Che ha preso il DNA E c'è tre C'è tre Credo di poterci raggiungere Non vedo l'ora Che lei si unisca Non ci facciamo niente Lo senti? Quals'è il potere? Qui è dove mi sono volto Me 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 To 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 Aia RB Dai, volevo farla Non ci ho fatto niente Non so se valeva To 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 Dai, dai, dai Che siamo Ci siamo quasi L E Y Più B Vai, vai, vai Spaccalo Dai Madonna Ulca, ragazzi È il numero uno Spacca tutto Il numero uno È più forte Abominio è anche forte Dovebbe essere addirittura Più forte A dire il vero Dovrebbe Già, già, già Non so se è morto Abominio, eh Non credo Non credo Minimamente Mostrami i tuoi segreti Aia Aiaia Che succede dietro? Come? Chi è? Vediamo Attenzione Aia Forse invece È riuscito L'esperimento Forse è riuscito Davvero È riuscito Sul serio Eccolo lì Impossibile Impossibile Andiamocene da qui Non è sicuro Impossibile davvero Certo Ah beh Allora Sei liberati Renderla un po' più Accogliente Ok Stai bene È strano Sei silenziosa Eh sì Ok Ok Bene Allora Vediamo che dice adesso Il Bruce Il Bruce Dai Se fosse vero Scusa la cosa La cura E se funzionasse Sembra tutto vero Ma E se potessi tornare normale Beh sai Non Non funziona così Potrebbe essere Se non vuoi il tuo potere Non sono mai stata accettata Voglio dire I supereroi erano il mio mondo E Credevo che Se avessi vinto quel concorso di fanfiction Sai forse tutto sarebbe stato Non importa Ormai sono tempi andati Kamala Ormai sono tempi andati Sono un mostro Ma no Non sei un Lui è il mostro al massimo Quello che hai fatto Ehi Quello che hai fatto Richiede fegato È stato stupido Ma richiede fegato E Ben pochi avrebbero Potuto farlo Diglielo fratello Il bene non è parte di te Cosa? Niente Grazie La stanza è magnifica Ok O meglio Ok Sì Ecco Bene Sì grazie Ok vado A Fare cose Ok Bene Oddio Subito Ok 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 E' troppo figo La vera cosa è adesso Era incredibile Quella nave in volo Forse il signor Stark Potrebbe ripararla Possiamo usare Jarvis O Non possiamo fare niente Molto meglio E che cazzo Poi dai fammi andare Via C'è altro E' stata la stanza Dica ma Devo parlare con Bruce Oppure potrei scoprire Qualcos'altro Ora che le porte funzionano Per dargli il tempo Di dimenticare Che mi ha visto piangere No No Non me ne frega niente Sinceramente A livello 6 Possiamo potenziarlo Va a potenza 7 Oh bene Questo ci potrebbe tornare Abbastanza utile Anche se non credo Che ci sia molto altro Qua Da vedere Ehi Bruce Parte questo Mi spiace Fai un po' vedere E al 4 Migliora un po' Ebbene così Non preoccuparti Lo capisco Hai avuto fortuna Con tu sei chi Tempismo perfetto Stavo giusto Per controllare Dai Ma certo Buon pomeriggio Dottor Banner Oh signor Bene Bene Sare più energia Il sistema Il sistema è in blocco D'emergenza Sembra che abbia fatto Scattare i sensori Di sicurezza Quando ero nel laboratorio Dovremmo disattivarli Ci penso io Ok vai 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 Dovrebbe essere di qua Noi stiamo sempre attenti Ecco esatto Alle casse Che ci sono qua Perché potremmo davvero Trovare Un tesoro Sì vabbè ciao eh Sì 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 vabbè ciao Questa non si apre Stranamente quella non si apre Abbiamo trovato altro Eh livello 5 Potrebbe essere Interessante Sì Ok Allora potenziamo Anche questo E va al 6 Mi siamo saliti Abbastanza Dai Solo quella Apribile Ed esplorabile Cosa devo cercare D'accordo Devi usare la console Nel laboratorio Per disattivare i sensori Ok Mi è andata male Credo di aver peggiorato le cose Nessun problema Dovrai solo disattivare manualmente I sensori di sicurezza Cerca Le lucine rosse Come diavolo faccio a raggiungerle? Davvero? Oh giusto Braccia allungabili E dove cazzo le trovo tutte? Ok 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 Carte sfida eroe Ho sblocato la carta sfida eroe Con metri sfida eroe Per ottenere i punti sfida Non me ne frega un cazzo Sinceramente Non me ne frega Una banana Ora come ora Ora come ora No Poi Poi faremo Esploreremo Guarderemo Dire fare girare Devo andare di qua Vediamo un po' Siamo già a 25 minuti Bel lavoro Camara Voglio solo fare ancora questo Eh Aspetti Qualcosa Non va Dottor Banner Cioè No accidenti Sembra che il mio collegamento Neurale Si sia danneggiato Nello schianto Della chimera Aia A posto Ah è sparito lui Ho capito perfettamente Bruce È bello rivederti Dopo il mio incontro Con Hulk Non sapevo Se avrei più avuto Tue notizie Sì Mi dispiace Hulk ha avuto Alcuni Problemi Non devi scusarti Tutte le nostre vite Sono crollate a pezzi Quel giorno Sono felice Di rivedere Gli Avengers Ma che Non è vero Non proprio Ciao Sono Kamala Khan Siamo solo noi due Per ora Stiamo cercando il signor Stark Ci serve un collegamento Neurale Dovrete pur avermi Però Scusatemi Stark è un miliardario Non è che Sparisce così Il miliardario No Devo accendere i motori Del queen jet Signore Quale queen jet Quale queen jet Gli anelli mancanti Cosa vuol dire Usi il tavolo strategico Per impostare La destinazione Del queen jet Per la prossima missione Le coordinate Fornite dal comandante Il Portano a una struttura Nella tundra Ho segnato la posizione Sul tavolo strategico Le missioni importanti Per proseguire Con l'indagine Sull'AIM Sono contraddistinte Dalla A Di Avengers Bene Pensavo fosse appropriato E' ok Ok E' non è che ho tanto da fare E' qua Ah ok Ora è chiaro Davanti a nemici Con poteri speciali E modificatori Sarebbe consigliabile Dare un'occhiata Ai modificatori Della missione E preparare Un equipaggiamento Adeguato Le forze AIM In questa regione Usano delle armi Con tecnologia Criogenica Ahia ci congelano Equipaggiando Delle protezioni Contro il freddo Potrebbe avere Maggiori possibilità Di successo Beh purtroppo Non ho Altro Equipaggiamento Orale Come si è garantito Selezione Missione Quindi Ah stiamo andando lì Così al brucio Stiamo andando Signore Nella tundra Caro amico Ti scrivo Un lucro Dispettivo Poi selezionarlo Dal registro Degli eroi Io però Signori Direi Ah posso scegliere O lui O lui Io sceglierei lei Perché mi piace molto Signori direi che Per oggi può finire qui Ci vediamo al prossimo video Ci cacciamo Ci cacciamo Ci cacciamo